Si offre di aiutare due persone ma viene aggredito. È successo a Fontaniva, vittima un uomo del posto che ha riportato escoriazioni al braccio allo zigomo sinistro. Ieri sera in via risorgimento il 52enne stava rincasando quando si è accorto di due giovani che in bicicletta procedevano a zigzag al centro della carreggiata. L'uomo ha così fermato l'auto per sincerarsi delle condizioni dei due ciclisti, uno dei quali, in evidente stato di ebrezza, l'ha subito aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente colpendolo all'avambraccio e al viso con una griglia per barbecue. La salitore è quindi tornato poi all'attacco colpendo nuovamente la vittima al braccio per evitare che potesse chiamare i soccorritori, così facendogli ha fatto cadere a terra il telefonino che poi ha raccolto prima di allontanarsi per le vie del paese. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri per dare un volto e un nome ai due giovani.